Un finanziamento triennale a fondo perduto per sostenere i progetti di ricerca più meritevoli messi in campo dall'Università di Pisa. Questo è il contributo che la Cassa di Risparmio di Sameniato ha voluto dare ad un settore che ha bisogno di sostegno e di attenzione. 90.000 euro in tre anni che sono serviti e serviranno per finanziare alcuni progetti presentati nel 2014 e fino al 2016 dai ricercatori dell'Università di Pisa nell'ambito del progetto Meet Unipi Project, di cui l'Ateneo Toscano, unico ammesso insieme ai Politecnici di Milano e Torino, è partner della prestigiosa istituzione universitaria americana. L'accordo, siglato nell'estate del 2014 fra il presidente Bandini e il rettore dell'Università di Pisa Massimo Augello, ha già visto finanziati i primi due progetti.